Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo. Nella giornata di giovedì giungerà una nuova perturbazione atlantica che interesserà dapprima le regioni di nord-ovest ma poi anche il resto del centro-nord, mentre al sud il contesto andrà temporaneamente migliorando. Osserviamo la mappa della nuvolosità che vede infatti questo fronte nuvoloso avvicinarsi verso le regioni settentrionali e riportare quindi un peggioramento con piogge, come possiamo vedere anche dall'immagine delle precipitazioni, piogge e nevicate che interesseranno appunto le regioni settentrionali ma poi anche soprattutto il medio-alto versante terrenico con fenomeni anche a carattere temporalesco. Osserviamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata, avremo un contesto un po' più soleggiato all'estremo sud e sul medio versante adriatico, mentre altrove la situazione andrà velocemente peggiorando con l'arrivo di piogge anche diffuse sulle regioni di nord-ovest in estensione poi verso il Triveneto ma anche soprattutto sul medio-alto versante terrenico come dicevo con nevicate sull'arco alpino a partire dai 1200-1400 metri di quota ma con limite in netto calo al nord-ovest anche fin verso i 900.000 metri. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.